I dati sono dati estremamente positivi perché parliamo di un'azienda che ha garantito 25 milioni di utili nel giro di 7 anni, parliamo di un'azienda che è riuscita a fare investimenti di 20 milioni l'anno, parliamo di un'azienda che praticamente riesce a garantire degli utili importanti per l'azienda. Vi basta solo un dato che gli utili garantiti oscillano dal 7,98% all'8,89% all'anno. Quindi sarebbe stato per chiunque un ottimo investimento avere a che fare con Aset. Rimane il fatto che sono stati portati avanti anche tutta una serie di passaggi che hanno qualificato in maniera importante il territorio. Parlo degli scolmatori che hanno risolto i problemi di malinabilità in molti luoghi, in molte parti del litorale. Parlo della vasca di prima pioggia che ha risolto i problemi degli operatori economici che hanno a che fare con le zone limitrofe. Parlo della qualità delle acque in generale, della raccolta dei rifiuti che siamo arrivati al 75%, di nuove modalità che vengono portate avanti nella raccolta, quindi di nuove filiere. Parlo di sostituzione degli impianti elettrici con un risparmio che quando sarà a pieno regime parliamo del 40% del risparmio dei consumi elettrici che è una cosa estremamente importante, come dalla possibilità di poter avere degli impianti di fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a favore dell'azienda e delle comunità energetiche che verranno poste in essere in futuro, quindi anche di una grande qualità nelle modalità di operare. Solo per la gestione della discarica siamo stati capofile in un progetto europeo proprio perché c'erano delle università che volevano capire da noi come si facevano determinate cose, cioè come si conferiva, come si recuperavano determinati materiali, come deve essere utilizzata una discarica. Abbiamo avuto una serie di riscontri estremamente positivi da parte di tutto il mondo delle farmacie che sono aumentate di numero e di qualità con del personale giovane estremamente motivato. A me mi è piaciuto anche evidenziare che per quanto riguarda la reddittività dei dipendenti siamo partiti da 188 mila euro per dipendente nel 2017 e siamo arrivati a 200 mila euro dipendenti. Anche questo significa che si è avuto una grande attenzione nella qualifica del personale, nel cercare di ragionare in maniera positiva con i dipendenti e cercare di valorizzarli e questo è stato fatto. Quindi da questo punto di vista penso che l'operazione portata avanti in Asia negli ultimi sette anni possa essere solo che giudicata positiva. I settori per il futuro ci sono perché il mondo è estremamente veloce e le priorità principali sono le gare di ambito. Ci sono le gare dell'idrico che scadono nel 2028, quindi si andrà verso l'operatore unico provinciale. Noi adesso non siamo in grado di poter competere da soli perché non siamo manco in grado di partecipare. Quindi abbiamo bisogno subito di portare avanti una politica che possa trovare risorse, soci, chiamateli come volete, però abbiamo bisogno di collaborare con gli altri. Idem con patate per quanto riguarda l'igiene ambientale che scadrà nel 2030 e anche lì dovremo rimettere in discussione tutti i contratti con i comuni soci e anche lì si andrà verso l'operatore unico, almeno quello che dice l'ATA. E quindi anche lì bisognerà portare avanti una capacità, un'intelligenza nel trattare con altri per poter essere ancora partecipi in questo genere di attività.